...atteso a Chieva. Toto sta per arrivare, dovrebbe arrivare fra qualche minuto, appena arriverà, io ti informerò. Intanto l'orchestra stava intonando le note di Solo Noi, che è uno dei brani che dovrebbe cantare domani sera Toto Cutugno. Nell'attesa che arrivi vi lascio così. ... ... ... ... ... ... Siamo, siamo, siamo. Vieni qua, tu devi andare a prendere. Vieni, lascia, lascia. Vieni qua, vieni qua. Andiamo fuori, vieni qua. 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 Stop! Stop! Adesso aspettiamo... Sentiamo cosa dicono così...